Proprio oggi Federalberghi ha emanato la nuova normativa che prevede che gli alberghi in Italia, in base alle fasce di residenza, possano tenere o meno e innalzare il riscaldamento a proprio piacere. Per la nostra zona sono stati assegnati 19 gradi più 2 di tolleranza. Detto questo, devo dire che se gli aumenti che si sentono in giro e che arriveranno con il gas, sicuramente saremo costretti appunto a questo supplemento comfort, quindi il comfort è semplicemente il calore. Vuoi il calore? 20 euro in più a camera. Ti adatti a dormire come prima, quindi temperatura molto più bassa, allo stesso prezzo di prima e lo faremo anche nel nostro ristorante. Quindi avremo due sale, una riscaldata come prima, temperatura più bassa e una temperatura comfort e questo comfort purtroppo costerà 5 euro in più. Grosse difficoltà che vanno a ripercuotersi anche sulla programmazione del 2023. Ci hanno chiesto di riprogrammare gli stessi gruppi per il 2023, noi però purtroppo non siamo in grado di fornirgli un preventivo. Non siamo in grado per il semplice motivo che non sappiamo quanto andrà ad incidere il caro energia sui nostri bilanci.